Nessun allarmismo, serve solo buonsenso. È il messaggio del sindaco di Albosaggio, Graziano Murada, che ieri sera ha informato la sua comunità sui social rispetto al caso di contagio da coronavirus di una sua concittadina di 48 anni. Il sindaco rassicura la popolazione e invita alla calma. La signora affetta coronavirus è affidata alle cure sanitarie, è sotto stretta sorveglianza e quindi possiamo al momento dire che la situazione è sotto controllo. Lo stesso vale per tutti i familiari, ma anche per le persone che sono venute in contatto con la signora, le quali sono già state avvisate e poste in quarantena, come prevede tra l'altro anche la normativa nei casi specifici. C'è preoccupazione per l'eventuale diffusione del virus? Io credo che sia normale in questa fase, un minimo di preoccupazione, però voglio rassicurare i miei concittadini che tutte le procedure sono state messe in atto. La signora ha contratto il virus e il virus appartiene allo stesso ceppo del focolaio lodigiano e basso milanese, quindi non è un ceppo assolutamente autottono. Tutti quelli che dovrebbero essere sottoposti a verifiche e controlli sono stati fatti, quindi continuiamo la vita normale. Una volta applicate quel minimo di norme, credo che tra 15-20 giorni la situazione rientrerà tranquillamente. Numerose le iniziative messe in campo dal comune di Albosaggia con grande attenzione alle fasce più deboli della comunità, gli anziani e i bambini a casa da scuola. Stiamo muovendo su due fronti, il primo è quello fatto stamattina, quello di verificare la situazione degli ultra settantenni, quelle coppie o quei singoli che vivono da solo e che magari nei prossimi giorni potrebbero avere necessità di qualche genere di conforto oppure di andare a acquistare medicina e farmacia o quant'altro. Quindi ci recheremo verso le famiglie e valuteremo il loro stato. Mentre per i ragazzi delle scuole che sono a casa stiamo lanciando e partirà lunedì due concorsi. Per quanto riguarda le medie starà un concorso video. Il tema del concorso verrà detto solo lunedì per non dare vantaggi a nessuno. Mentre per quanto riguarda le elementari invece verrà consegnata la maglietta bianca dove dovranno realizzare una storia e poi questa storia dovrà essere tramutata in disegno sulla maglietta bianca. Il premio per i vincitori sarà un ingresso gratuito a Gardaland questo perché far capire soprattutto ai ragazzi che ci sarà il tempo in cui si ritornerà alla normalità.